Nella mattinata di venerdì 22 marzo si è tenuta come la consuetudine in frazione argentera di Rivarolo Canavese la commemorazione in memoria dei partigiani fucilati dai fascisti nel cimitero della frazione il 22 marzo 1945. I luoghi della memoria organizzata dall'AMPI, sezione di Favre, Oglianico e Rivarolo in collaborazione con il comune di Rivarolo ricordo ogni anno il tenente Renzo Scogna Miglio, il sergente maggiore Mario Porzio Vernino Antonio Ligini, Sergio Tamietti e Alessandro Bianco della formazione partigiana Sesta Divisione Alpina Giustizia e Libertà deceduti sotto i colpi dei fucili fascisti. Gli alunni della scuola primaria di Argentera, accompagnati dagli insegnanti hanno intonato canti e letto frasi della storia dei partigiani una commemorazione che da sempre commuove ed educa i bambini a non dimenticare quanto accaduto a ragazzi coraggiosi che hanno lottato per la libertà. La cerimonia si è conclusa con la deposizione dell'omaggio floreale presso la lapide posta all'esterno della chiesa di San Grato. Grazie. 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 Grazie.